Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Sì, Mirta, in realtà credo che hai detto tutto te e credo che sia giusto che sia proprio tu in questo contesto a dire le cose. Mi spiego. Allora, è vero che tutte le guerre sono anche state fatte di propaganda e questo appunto, da che mondo è mondo, è sempre stato così. Così come è vero che la disinformazione, che non è propaganda, è qualcosa di molto più della propaganda, è qualcosa che è molto caratteristica di quest'era che stiamo vivendo. E in particolar modo è molto caratteristica nel modo in cui la Russia ha agito non a partire dal 24 di febbraio, ma nel corso sostanzialmente dell'ultimo decennio. Allora, come funziona la disinformazione? Non funziona semplicemente dicendo che c'è un falso. Funziona, come dire, quello è l'ideale. Ma in realtà quando non si raggiunge quest'ideale, basta semplicemente insidiare il dubbio nel vero. Quindi basta dire, così come è stato detto, che potrebbe essere stato montato tutto con un set. Non si dice che è stato un set. Potrebbe essere un set. Potrebbero quelle immagini satellitari non essere vere. Basta insidiare il dubbio in chi ascolta, in questo caso in chi ci guarda e chi ci ascolta, che il vero potrebbe essere falso. Allora, in un contesto del genere è il ruolo, in realtà, del giornalista, in questo caso tu o Mirta, di fare esattamente quello che tu hai fatto. Perché se lo facessi io, a quel punto sarebbe la mia opinione, messa a confronto con l'opinione di un altro esperto, di un altro opinionista, e a quel punto è esattamente quella diversità di opinione che fa parte dell'insidiare il dubbio. Tra virgolette, la bufala, adesso non sto parlando di questo caso specifico, ma in generale la bufala deve essere smentita da chi ha l'autorità in questo caso, che è il conduttore, di smentire la bufala. E quindi credo che appunto, in realtà, Mirta, hai fatto esattamente quello che va fatto in questo contesto. Ci sono delle persone che mettono a rischio anche la loro vita per essere lì, che fanno un lavoro durissimo, difficilissimo, e che vi posso garantire che hanno la massima onestà intellettuale e anzi, cioè a me mi è successo che il mio inviato di Chiem ha detto io, abuciandolo qualche giorno dopo perché non voglio andare nel press tour che organizzano gli ucraini, per dirvi quanto queste persone hanno tutto l'interesse a raccontarci la verità. Dopodiché vi posso garantire che avendo io visto in diretta venerdì mattina le immagini a 20 minuti di distanza dal bombardamento della stazione di Kramatorsk, delle persone, delle donne, dei bambini, delle persone anziane, dei bastoni lasciati dai disabili, dei peluci insanguinati, cioè davvero credo che mettere per esempio in discussione quella tragedia immane, gente disarmata, innocente, che cercava di salvarsi la vita, che viene bombardata a sangue freddo, insomma ogni tanto bisogna tenere davvero la barra dritta. Forchelli mi racconta...